Quindi è B-Sides? Sì, è ufficiale. B-Side. Ah, B-Side. B-Side. Ah, ok. Quindi non è B-True-to-Side. Ma no, è troppa roba. Facciamo B-Side. Alla fine l'avevamo chiamato così anche la roba di UTMB. E secondo me da un certo punto di vista può anche funzionare nel senso di... È come se fosse il B-Side di Backcode, quindi il lato B per chi vuole continuare e ascoltare qualcosa di differente. Quindi se possiamo già dire a tutti quelli che non hanno voglia di ascoltare un certo tipo di argomento, questo non è il vostro piece of cake, non è il vostro cup of tea. Esatto, esatto. Ma è la nostra perché siamo riusciti a convertire Alessandro al lato oscuro dei materiali e quindi è giusto parlarne. Ma sai che secondo me... Adesso non so se questa puntata in realtà è già cominciata. Senza presentazione, così, debotto, a freddo. Ma è sempre così, ma qui è bello di Backcode. È vero, è vero. Probabilmente c'è, mi immagino, la musica in sottofondo, lo sfumino. È già arrivato tutto. No, sul discorso dei materiali e poi magari faremo un'introduzione quasi seria. In realtà credo di essere sempre stato un po' fissato, non tanto fissato del tipo ah, devo andarmi a vedere questa cosa rispetto a quest'altra, qui usano questo materiale. Ecco, a quel livello sinceramente non sono mai arrivato. Però con me hai sempre abbastanza trovato terreno fertile del tipo vai a vedere questo sito dove puoi fare il comparison tra le scarpe. Di sole review. Di sole review, esatto. Di sole review per intenditori. Che c'è ancora, però poi ogni volta sole review fa solo scarpe da strada. Che va bene. Solo stradali. Parte della mia natura è su strada, quindi senza garaggiano su strada. Penso che le recensioni più complete, ma fatte anche bene con un format un po' diverso dal solito, con i disegnini, le comparison, il 3D, sole review sia ancora un riferimento. Magari non è, non ci vedi dietro la struttura che hanno altri siti di recensioni che magari vedi che fanno le cose un po' più in grande, hanno una progettualità sul review e sono i backhold delle recensioni. Cioè, abbiamo voglia di recensire questa scarpa? Ok. Nessuno ci ha chiesto la recensione della scarpa. La facciamo lo stesso. Che è bene o male quello che poi alla fine vorremmo fare noi. Ma secondo me, sole review mi ha sempre fregato perché sa quali tasti andare a toccare i miei. E i tasti sono le tabelle. Quali sono i tuoi kink? Sono le tabelle con i numeri. Nel momento in cui mi dici questa scarpa che ti interessava ha questi numeri, ma questa scarpa che è simile ha questi altri numeri. Quello è... A me è una cosa che ha sempre piaciuto, scusate, è quella tabella delle tabelle e quella che ti dice praticamente, sei un affezionato del brand di questa scarpa, allora in rotazione dovresti aggiungere altre due scarpe dello stesso brand e creare la tua rotazione. E se invece vuoi cambiare brand per fare una rotazione sensata mantenendo quella scarpa lì, ti consigliamo questo. Strepitoso. Quello secondo me era geniale così come erano loro che ti dicevano questa scarpa è il successore di quest'altra scarpa o questa scarpa non esiste più ma il potenziale successore potrebbe essere questo. Che è una cosa che a me è sempre andata benissimo perché in questo mondo di confusione dove ci sono mille paie di scarpe e dove, non so perché, ho sempre la capacità di andare a scegliere il prodotto di scarpa che poi viene dismesso. È stato così con New Balance quando ho cominciato veramente a correre una decina d'anni fa. È stato così con le, come si chiamavano le, Nike, Zoom, Nike, Pegasus. Pegasus Turbo. Turbo, esatto. Turbo, yes. Che ti ho detto, fantastica, mi trovo da Dio e tu mi hai detto, non le fanno più. E insomma è una lunga storia, quindi loro comunque ti davano o ti danno, in realtà ti danno ancora questa possibilità e l'altro mio kink, e non ricordo se sono loro o se è un altro sito perché me ne hai passati diversi nel corso di questi anni, sono quelli che tagliano in due le scarpe. Quello è l'altro riferimento che è Run Repeat. Run Repeat, giusto. Run Repeat. Tra l'altro, trivia di Run Repeat, se tu lo digiti sulla barra di ricerca in alto del browser, ha una velocità di caricamento, non importa se sia la prima o la centesima volta che Run Repeat, premi invio, sei già dentro. Pensa che server fantascientifici usano. E lì sono lì, in realtà io mi sono sempre reso conto che ho sempre utilizzato un centesimo della potenzialità di quel sito perché in realtà dentro, adesso, eccolo, sono già dentro, non ha solo le stappe da corsa, ha training, crossfit, sneaker, basketball, poi climbing, golf, ha recensioni, perché è geniale il format, loro hanno una serie di recensori in giro per tutto il mondo, per tutti gli sport e raccolgono recensioni, è un enorme imbuto e poi hanno una persona che per ogni singolo modello le mette insieme e crea una presentazione quantomeno fatta bene e hanno anche un sacco di dati per chi ha dato i dati. e tagliano le scarpe. Praticamente Ale, abbiamo appena dato tutti gli elementi alle persone di smettere di leggere le nostre recensioni, perché ci sono già due ottimi siti. Ma le normal non le hanno loro. Esatto, ma secondo me Soul Review non gestisce scarpe da trail, Run Repeat non le fa tutte, a volte hanno dei buchi importanti. Però secondo me il motivo per cui hanno un server che risponde così velocemente è che hanno i soldi, perché se hai i soldi per prendere le scarpe e tagliarle in due, hai i soldi anche per gestire un server di un certo tipo. Ora ce l'ho qua davanti, dicono un database di 4 milioni di atleti e 12 mila esperti e hanno le sponsorizzazioni di New York Times, BBC, Wall Street Journal, The Guardian e Washington Post. Quindi sicuramente… È un punto di riferimento. Ci sono rubriche che hanno piacere che compaia loro. Quindi hanno una… E l'ultima cosa che come strumento mi è sempre piaciuto un sacco, forse ne avevamo parlato nell'altra puntata di Beside. Oh, abbiamo detto come si chiama questo spin-off di Buckle. Si chiama Beside. Però vorrei dire a tutti che Beside sta per… è la formula ristretta di Beside che sta a sua volta per… cosa che era? Beside due punti true to size. Esatto. Ora che abbiamo fatto sufficiente confusione la gente è pronta. Era il softwareino quello che scannerizzava in 3D le scarpe e tu gli dicevi io ho, che ne so, una Wildors 4 e voglio cambiare scarpa. Giusto. Qual è un paragone? Oppure gli dici, ah vorrei prendere una Jackal della sportiva. Come funzionano? E ti faceva vedere dove andavi a toccare col piede, dove si intersecavano. Quello era uno strumento incredibile. Il volume del piede. Esatto. Una scarpa. E anche perché quello ti beccava esattamente qual era il numero che dovevi andare a prendere di scarpa. Quindi era una cosa fantastica, talmente figa che Amazon ha detto, sai cosa? La compro io e poi l'ha dismesso. Ah sì. Grazie Amazon. Ok ha provato a fare una cosa simile, dove però ti dice semplicemente, ah se usi questa scarpa ti consigliamo questo numero, però in realtà non c'è nessun tipo di studio. Insomma io voglio vedere lo scan 3D, cioè vuoi mettere? Sì, sì, sì. Tutta un'altra cosa. Sì, sì, sì. Con la mappa di calore del piede, di dove tocchi, dove ti sanno. Esatto. Secondo noi ti darà fastidio in questo punto speciale. Esatto, esatto. Facciamo un'introduzione vera e propria. Abbiamo già detto che questo spin-off si chiama, o si chiamerà, si chiama, si chiama B-Side. Ne avevamo già fatto una versione di B-Side poco dopo UTMB. Era stata l'ultima puntata a chiudere il nostro speciale di UTMB. Abbiamo voluto mantenerlo come nome. Vorrei potervi dire che siamo stati tutti d'accordo e dal primo giorno, da mesi sapevamo che in realtà questa cosa si sarebbe continuata a chiamare B-Side e in realtà abbiamo deciso qualche giorno fa di mantenere questo nome. Vedetelo come un lato B di Buckle. Lato B ovviamente sapete bene a cosa facciamo riferimento. ovviamente in questo spin-off non credo arriverà a cadenza mensile, sarà probabilmente più una cosa trimestrale, poi dipenderà anche da quanti prodotti, materiali, novità ci saranno sul mercato, ovviamente non parleremo, o forse, o non parleremo, non so, di gare o di atleti, parleremo di materiali e lo facciamo ovviamente con Tommaso perché la persona che ha l'unico cervello funzionante in questi termini è lui. Facciamo, io faccio veloce, prima di darti la parola per più o meno 700 ore, visto gli argomenti che abbiamo in scaletta. Il primo argomento è abbiamo delle gare di cui parlare, ma non parleremo di gare. Esatto, esatto. Io farei subito la track list dell'episodio, così in realtà la gente se non è interessata può schippare o può spegnere, ma non fatelo perché arriverà un annuncio incredibile più tardi, in realtà non è vero, non arriva nessun tipo di annuncio. Di cosa parleremo in questa puntata? Allora, intanto parleremo del secondo avvento del city trail, quindi delle scarpe city trail, poi ne parleremo, delle scarpe che vanno bene sia su asfalto che su sentieri. Parleremo delle scarpe che sono state usate ai mondiali recentemente fatte in Thailandia. Parleremo ovviamente di prototipi e nuove uscite che abbiamo visto in giro in questi mesi, questi mesi si intende da UTMB ad adesso, stiamo registrando a metà dicembre, e parleremo degli eventi di presentazione di prodotti. Ce ne sono stati due, in uno praticamente non hanno fatto vedere quasi nulla, intendo ISPO, e l'altro è The Running Event, ma vediamo dopo, vediamo dopo cosa ci sarà. direi, aggiungo solo che il C-side del B-side è stato, cioè il nostro, dietro le quinte è stato, oh figo ragazzi, finalmente c'è ISPO, avremo un sacco di cose di cui parlare durante la puntata, zero. Oh anche no. Zero. Però senza… Fortunatamente è arrivato The Running Event che si tiene sempre la settimana dopo il Thanksgiving e quindi… Sì, infatti, infatti. …è salvato… Vabbè, comunque ne parliamo dopo perché sennò io sarei già partito a… ero già partito a parlare di quello. Torniamo all'argomento principale. È una cosa che tra l'altro a me sta a cuore, questo concetto di City Trail, perché lo leggo… alla fine lo leggo al momento in cui ho cominciato a correre sul sentiero e l'ho fatto con un paio di scarpe, in realtà due paio di scarpe da City Trail, quelle che Salomon chiamava come City Trail, o anzi lo chiamava come Door to Trail. No, no, City Trail l'avevano registrato, secondo me, come dominio, come… no dominio, come brand, perché poi faceva da Pile Cup per le gare del circuito, c'era addirittura Milano che sei andato a fare tu, Milano City Trail. Però il problema è che poi sono arrivati degli svedesi o norvegesi, adesso non mi ricordo, che gli hanno fatto notare che il copyright di City Trail ce l'avevano loro e l'hanno dovuto abbandonare. Ma scherzi, questo non mi mancava. Sì, sì, sì. Quindi hanno fatto le cose quasi complete. Però sì, io avevo cominciato a correre su sterrato, su sentiero, su trail, con delle Sense Mantra 2, mi pare, vado a memoria. Usate abbastanza per qualsiasi cosa. Sai quando corri da poco e non hai bene la concezione del… per ogni tipo di terreno forse avresti bisogno di una scarpa differente. Quindi ci correva dai collinari, il Pasubbio, quindi montagna un pochettino più tecnica. Ah, la gioventù. Io come te avevo iniziato a correre in quegli anni lì, 2015-2016, e la scarpa che apprezzavo di più era la Sense Pro, la prima Sense Pro che era stata anche recensita su Run Lovers. Insomma, c'erano state tutta una serie di dinamiche. L'aveva recensita Drugo. Vabbè, credo la gente che ascolta sa chi è perché comunque è stato intervistato da Buckhold insieme ad Aldo Indotto. Però appunto, come dici tu, era una scarpa che arrivava, te la vendevano e la acquistavi perché sapevi che era da misto, la cosiddetta scarpa da misto, e per te diventava il prodotto con cui esco a fare 10 km su asfalto, uso quella, vado in su mano, uso quella e così via. Faccio dalla montagna alla collina, faccio qualsiasi cosa in qualsiasi stagione. È stata anche la prima scarpa con cui mi sono infortunato, se ricordo bene. Bandelletta l'ho fatta con quella Back in the Days. Che però sì, Salomon ha attirassato un po' il suo eco in quel momento lì. Mi chiedo se fosse un primo approccio al mondo del trail che poi si è molto specializzato e quindi questo tipo di scarpa è un po' andata a scomparire, o se semplicemente magari le tecnologie del tempo, adesso ne stiamo parlando come se fossero 20 anni fa, ma stiamo parlando veramente di 7 anni fa, quindi è nemmeno tempissimo. Le tecnologie sono magari un po' cambiate, le scarpe si sono un po' più specializzate e una scarpa da trail vera e propria in questi anni era magari diventata poco adatta a correre anche su asfalto. È una cosa che è tornata in questo ultimo anno e la cosa mi fa piacere. Sono uscite comunque delle scarpe dichiaratamente city trail o door to trail, quindi quel classico misto asfalto e sentiero. In quegli anni, da novellino dello sport, non riuscivo a capire se queste scarpe stavano funzionando così bene perché le vedevi tantissimo, proprio perché nella nostra zona, in questo nord-est di gare, stavano nascendo tante competizioni che accoglievano questo concetto di essere appena fuori dalla città. O non riuscivo ad avere la misura di quanto fosse esteso questo movimento city trail perché poi Salomon chiaramente ci aveva fatto una campagna gare, una campagna pubblicitaria importante. Però non riuscivo ad avere questa lettura, ma anche negli altri parti d'Europa, perché alla fine Salomon era più Europa ancora, non era così America, al tempo chissà se si rispira questo clima e secondo me non è neanche durato tanto. Cioè è una cosa che è partita, ha avuto un pubblico preciso, il pubblico che si stava approcciando per la prima volta allo sport ed è stato un enorme movimento per chi adesso invece è probabilmente una persona che fa ultra già da due o tre anni. Sì, sì. Però tutti hanno iniziato lì, con la gara in città, magari magari proprio a Milano, che non so, erano diverse distanze forse, no? Io avevo fatto la 20, secondo me c'era solo quella ai tempi, che poi chiamare in Milano un city trail, vabbè, era un salto discorso perché poi alla fine correvi nei parchi, sì. Era proprio city trail nel senso di facevi città e facevi dei sentieri all'interno della città. Sì, però lì appunto era proprio il prolungamento di ho creato un prodotto per un target di clienti ben preciso e poi sotto hai l'evento che ti permette di sentirti dentro alla campagna marketing. No, ma che poi giustamente, come dicevi te, era un prodotto ed è secondo me tuttora un prodotto che ha assolutamente senso per chi sta cominciando, perché magari chi comincia è veramente magari in transizione dalla strada al trail. Quindi trovare una scarpa che è un po' ibrida e che si può usare su entrambe le superfici, questo non vuol dire magari comprare una scarpa city trail e andarsi a fare 10 chilometri su strada, vuol dire andarsi a fare magari 10 chilometri di allenamento e che ne so, 6 sono su sentiero ma ci sono anche dei pezzi su asfalto e mentre corri su asfalto non ti sembra di avere due mattoni legati ai piedi. Quindi è questa la differenza e quello che mi è sembrato strano in questi anni e magari appunto è anche parte colpa mia il non avere magari polso del mercato, non mi è sembrato che i brand fossero così interessati nello sviluppo di questo particolare tipo di prodotto. Non so se era molto di nicchia e forse magari ai tempi già non andava o semplicemente come dicevo prima i brand magari erano più interessati a transizionare a cose un pochettino più specializzate, materiali un pochettino più particolari, scarpe valide magari da terreno misto ma misto inteso come dal collinare alla montagna piuttosto che misto asfalto e collinare. Un city trail non lo consiglierei mai come misto asfalto e montagna, questo va detto. Io mi ero riguardato diciamo le scarpe di quel settore, cioè di quel periodo storico, 5-6 anni fa, di altri brand perché Salomon aveva lanciato questa linea, aveva S-Lab ed era tutto il comparto elitario delle scarpe che al tempo si traduceva nelle XT6 che erano le più famose, abbiamo avuto tutti e poi sono arrivate le Ultra, insomma tutto quel mondo lì e invece poi aveva City Trail che era l'altra linea, è come se avesse un settore scarpe performance, un settore scarpe per tutto il resto del pubblico. Però non c'era solo Salomon, era sicuramente sulla cresta dell'onda ma c'era ancora una Brooks molto forte, quella famosissima Cascadia che stava avendo degli anni un po' difficoltosi perché i peggiori modelli erano usciti in quel momento lì, però Cascadia doveva essere quel prodotto che dicevi tu, una scarpa che va in collina, che va in montagna, ho sempre quella. E tutti gli altri brand, Saucony, quelle che Exodus, aveva lo stesso concetto, le scarpe famosissime, ma c'era la specificità che diceva è una scarpa da fuoristrada, invece Salomon ha detto no, io voglio offrire qualcosa che se corri su strada per fare delle transizioni non ti piangono i piedi e non hai i tastidi. Poi come tutte le Salomon di quel tempo anche le scarpe City Trail non brillavano per ammortizzamento alto, enorme, è una cosa che è arrivata adesso con il nuovo avvento. L'abbiamo chiamato il nuovo avvento del City Trail perché questo secondo ritorno secondo me è arrivato con delle necessità diverse in testa, è un utilizzatore differente rispetto a quello di quegli anni ed è arrivato anche con una linea di prodotti che si ispira proprio alle mode che abbiamo adesso. Prima tra tutti la scarpa molto ammortizzata, la scarpa molto alta e si inizia a vedere sempre di più. Che poi mi chiedo se appunto parte di questo ritorno non sia anche per il fatto che il ciclo produttivo comunque di sviluppo tecnologico dei materiali abbia poi portato ad avere una scarpa che semplicemente è molto più facilmente utilizzabile su asfalto. Faccio un esempio che in realtà non c'entra nulla con il City Trail ma con cui io mi sono trovato molto bene nelle transizioni su asfalto e ne abbiamo già parlato dal vivo, ne ho già parlato dal vivo con te che è Catamount. Catamount per me era una scarpa molto differente rispetto alle altre perché in tutte quelle fasi di transizione dal sentiero, anche abbastanza tecnico perché secondo me aveva un'ottima tenuta come scarpa transizione tra sentiero e asfalto era una scarpa che correva cioè che si muoveva bene, che era flessibile, che non affaticava il piede. Non la chiamerei mai una scarpa da City Trail però mi rendo conto che probabilmente quello è un'evoluzione involontaria dei materiali. il fatto di riuscire ad arrivare ad avere una scarpa anche abbastanza tecnica, solida che ha un'ottima presa sul sentiero, riuscire a portarla su asfalto e correrci bene. Quindi in parte probabilmente c'è anche quello. Sì, involontaria come dici tu, però effettivamente è la stessa cosa che sta succedendo a tante scarpe della nuova generazione, che i materiali sono levati così avanti, delle scarpe da trail che consentono una rullata a terra, una transizione tacco punta così agile che nel momento in cui ti ritrovi su asfalto e non sul sentiero per cui sono pensate vai comunque sicuro e anzi magari hai una corsa ancora più precisa, un po' più netta. Invece l'aspetto dei materiali che sono migliorati negli anni, perché la moda ispirata all'utilizzatore del momento chiama morbidezza, chiama alti stacchi da terra, chiama schiume sempre più oversize e se ripenso alla City Trail secondo Salomon, come Vangelo secondo Salomon, è City Trail secondo Oka, secondo Asic, secondo Saucony che c'è invece adesso, magari secondo Altra, sono due mondi completamente diversi e quel gap di 5-6 anni che c'è in mezzo è tutto votato al massimalismo. Quindi anche secondo me tutte le scarpe City Trail che ci sono adesso, Road to Trail, Road to Trail, capiamone come vogliamo, sono tutte scarpe che su strada riescono a dare molto di più, faccio questa prima grande premessa, rispetto a quanto possono fare sul sentiero. E poi ci sono delle piccole eccezioni all'interno di questa grande famiglia, però sono tutte scarpe che sono veramente fluide nelle transizioni su strada, sono diventate morbide, danno più sicurezza, portate sul sentiero, secondo me Salomon ne faceva meglio qualche anno fa e dava più sicurezza e anche più durata, mi viene a dire, ecco come... Beh, le mantra per te, le proprime, io le ricordo come scarpe infinite. Sì, sì, assolutamente. Di soliti 7, 800, 900 chilometri, nonostante la tassellatura da 3 mm, che vado da memoria, aveva il tassello molto basso, però sì, assolutamente. Però giustamente mi rendo conto che riguarda questo discorso di evoluzione, semplicemente è il classico full circle, nel senso di si è passati da una scarpa da corsa che non può essere adattata a una scarpa da trail, quindi bisogna trovare qualcosa di nuovo, la scarpa da trail va in evoluzione a livello di materiali fino a che non ridiventa praticamente una scarpa da corsa con una sola da trail. Sì, sì, sì. Anche perché tutti i materiali che abbiamo visto adesso, Jacquard, Matrix, eccetera, cose tutte molto morbide da usare, cose che ripensi alle scarpe, ripensi a delle Speed Cross 3 di 7 anni fa e veramente ci sembrava di correre con addosso degli scarponi con sotto i ramponi, perché era questo tipo di rigidità della scarpa. Sì, se riguardi i video della prima Ultra Bericus di 12 anni fa, vedi una gara City Trail, chiamiamola, comunque è sentiero, assolutamente, non ne vogliono, però comunque è una gara di trail urbano e corsa con le Ultra Raptor che sono dei semi scarponcini, insomma c'è stata un'evoluzione importantissima da questo punto di vista. Poi sì, non ricordo neanche come sia uscito questo argomento, come abbiamo detto la prima puntata e la preghiamo con questo, però sicuramente il fatto che iniziamo a vederne sempre di più è un sintomo che alla richiesta di questo genere di scarpa è aumentata. Dal mio punto di vista tutto è iniziato post-pandemia con il ritorno all'outdoor più o meno, passami il termine, tossico o commerciale, perché dopo anche lì ci sono delle dinamiche in cui non entriamo, però che hanno riportato tante persone in ambiente naturale a praticare attività sportiva e questo richiamo probabilmente tante aziende del settore corsa nel nostro caso l'hanno interpretato come devo fornire un prodotto accattivante per chi deve lasciare il parchetto dietro casa, la marciapiede, la ciclabile, vuole provare a fare l'argine, vuole provare a buttarsi in collina, vuole fare il sentiero che ha dietro casa da una vita ma che non ha mai preso in considerazione perché non aveva un paio di scalzature adatte e chi gli fa fare a quell'utente lì, quell'utilizzatore lì, di comprarsi una scarpa 100% trail dedicated quando può avere un prodotto ibrido che fa un po' di tutto. Chiaro. Noi con le aziende, lavorando anche con Schialper, lavorando con i test prodotto, abbiamo visto che c'è questa direzione ma neanche tanto velata, cioè vogliamo che il nostro utilizzatore outdoor di domani parta oggi scoprendo che può fare un'attività mista con un prodotto dedicato, che può fare un po' di tutto, senza il timore di dover essere committed a fare mega ultra trail o anche solamente correre 100% in montagna. Ma infatti ti dico, secondo me, per quanto mi riguarda, dal punto di vista di brand non ha in alcun modo senso avere in catalogo dieci paia differenti di scarpe tutti puntati sulla stessa sezione di mercato, nel senso ti pesti i piedi da solo. Sì, sì. Ci sta magari nel momento in cui punti magari a scarpe da montagna specifica, avere qualcosa di più ammortizzato, anche per chi porta in giro più peso, o semplicemente per chi vuole avere un'esperienza un pochettino meno affaticante sui piedi e un modello un pochettino più minimale. Alla fine la gente, bene o male, si divide in questi due canali. Però non ha senso avere otto sfumature di questa cosa, nel senso è anche dannoso dal punto di vista del brand. Quindi io sono più che contento che si ritorni a un livello, a un livello tale per cui c'è un modello di transizione, strada, strada sentiero e un modello magari un pochettino più specializzato per fare qualcosa di più complesso, il modello quello per fare gare lunghe, un filo più ammortizzato, eccetera, eccetera. Quindi meno prodotti ma più ragionati. E probabilmente questo discorso alla fine c'era anche venuto in mente proprio perché come accennavi, contemporaneamente sono uscite tutta una serie di modelli di scarpe proprio quest'anno, in questi mesi, che alla fine hanno questo concetto alla base. Abbiamo avuto entrambi la possibilità di provare Outroad di Altra. Yes. Tu hai avuto altre, tu hai testato altre scarpe, giusto? Sì, Outroad è stata la prima e assieme nello stesso pacchetto di scarpe c'è stata Saucony Trail Running, la linea TR, che è un trail run appunto dedicata al prodotto Ride, che è sempre stata la Ride, è sempre stata per Saucony, per chi non ha detto i lavori, la scarpa da strada più famosa per l'allenamento. Sopra la Kinvara c'era la Ride. La Ride TR è esattamente la stessa scarpa con un tassello intagliato, un po' più profondo, gestito e con una tomaia, un filino più robusta, un po' più supportiva. E oltre a queste due, anche siamo riusciti a vedere da vicino la linea di ASICS dedicata al Door to Trail, che loro, con un concetto che appoggio, non hanno chiamato comunque trail running. Hanno dato il suffiso TR per dare un'idea appunto che sono scarpe pensate per il sentiero. Però per loro trail significa semplicemente in queste scarpe accompagnare l'utilizzatore proprio al 100%, come una coccola, dalla strada al fuoristrada, senza fargli sentire troppo la differenza di terreno. Quindi hanno semplicemente preso tutta la loro linea stradale, hanno cambiato i tasselli e l'hanno chiamata Nature Baiting ed è la loro linea dedicata all'ibrido, ecco. Ma non hanno fatto il minimo sforzo di provare a dare una caratterizzazione in più a questi prodotti. Zero, zero. Ma per loro stessa missione non vuole essere una scarpa che sostituisce la loro linea da trail, vuole essere la scarpa per l'utilizzatore stradale affezionato che vuole un po' più di suola, un po' più di battistrada. Stop, il resto è identico. Forse quelli che da questo punto di vista hanno provato a rischiare un pochettino di più, sono stati quelli di altre che hanno fatto questo prodotto nuovo. Devo essere sincero, a me è piaciuto molto. Io vivo nell'intersezione tra strada e trail perché comunque ho pochi sentieri vicino a casa. A volte mi capita di tornare a casa di corsa, dallo studio e magari faccio otto chilometri di asfalto e tre chilometri di sentiero. Quando piove è un disastro, nel senso, quando piove o scegli una scarpa che è troppo pesante perché dici, ah, nel momento in cui arrivo lungo Brenta, lungo il fiume, perlomeno non muoio perché magari ha un po' di tassellatura. Oppure, insomma, è difficile trovare quel giusto equilibrio. A me ha autora da piaciuta. Dico che è strana per gli standard altra, uno perché comunque è stretta in punta. Non è la classica altra molto larga e loro hanno, mi pare, tre dimensioni di toe box, quindi di avampiede. Questa è la forma più stretta in assoluto. Ricorda, secondo me, una scarpa da corsa? Tu mi dicevi l'intersuola è la stessa di... Di Escalante e Rivera, soprattutto, come stacco. Escalante io ci avevo corso qualche anno fa, ci avevo fatto anche una maratona, cosa che non avrei dovuto fare, probabilmente, ma io non ho avuto ripercussioni. No, me l'han detto dopo. Per il claim di altre, in realtà, doveva servire anche a quello. Poi, nella pratica, era un po' più complessa da gestire per alcuni, per i tanti runner, ma, insomma, va bene. Va benissimo. E l'altra cosa strana, secondo me, di quella scarpa è che è altra, ma non difficilmente sono riuscito a sentire il discorso di zero drop. Nel senso, lo è, è zero drop, ma ha uno stack talmente particolare che non ti sembra di essere piatto. Quindi potenzialmente potrebbe essere anche il classico stepping stone per chi vorrebbe poi transizionare su altra. Giustamente altra dice, nelle istruzioni dentro le scatole, dicono o dicevano, ricordo su Escalante, dicevano sempre non fate una transizione netta, il vostro tendine si deve un po' riabituare a essere elastico, fate un po' e un po' con le vostre scarpe vecchie. Ecco, questa, secondo me, può essere una buona scarpa per fare un pochettino di transizione, perché quel tipo di potenziale fastidio io che praticamente non corro mai a drop zero non l'ho sentito. Ci ho corso tanto su misto, quindi su strada e su sterrato e mi è piaciuta. Il grip non è incredibile, però è quello che basta per correre sul sentiero e la scarpa secondo me corre veramente molto bene, molto fluida, molto veloce anche da un certo punto di vista. Sì, è vero. La sua è decente, fa quello che deve fare, non promette nulla in più di quello che ha lì. Non è ovviamente Vibram, diciamo subito, perché andrebbe contro il concetto di correre per strada. È una suola di proprietà, loro la definiscono mediamente sticky, quindi in grado di fare sì presa, ma non troppo, altrimenti il contatto con l'asfalto andrebbe in abrasione facilmente. Ha un tappo tutto sommato piatto, quindi aiuta anche questo a non farti sentire un tacchetto all'interno del plantare, diciamo di battuta, però il materiale della schiuma a me ha sorpreso perché è molto meno morbido di quello che pensavo, ma non è mai scomodo, cioè è reattivo pur dandoti un certo senso di comodità. Quindi sull'astrostrada ritorna molto veloce, è molto divertente come scarpa. Non ci farei lunghissimi forse per l'epicet mio. Ci farei dei 30 chilometri al massimo penso. Ci farei la stagione inverno, inizio della primavera, quando devi preparare le solite, mi si aprono i ricordi di sette anni fa, quando devi preparare, devi fare i soliti lunghi con gli amici per arrivare pronto alle solite gare. Allenamenti medio corti. Possiamo dire scarpa da FIASP. Possiamo dire scarpa da FIASP. Assolutamente sì, assolutamente sì. Premio FIASP. Senza nessun problema. Unica cosa, secondo me veste un filo più stretto rispetto alle scarpe, rispetto al proprio numero in generale. Parlavamo prima di true to size, che è un modo di dire per dire ti veste come ti dovrebbe vestire. Ecco, secondo me veste un filo più stretta, ma credo che il problema sia nel tallone che è veramente molto imbottito, quindi serve un po' di tempo per riuscire a schiacciare un po' l'imbottitura che c'è dietro. E anche il fatto di essere stretta in punta ovviamente non aiuta. Apro una piccola parentesi. Per puro caso, negli ultimi due mesi o un mese e mezzo, ho usato tanto le Outroad, ho corso con Montblanc Boa e ho usato tanto le Olympus 5 e sono tre scarpe completamente diverse. Se mi avessero detto che sono state realizzate da tre brand differenti, direi sì, è assolutamente così. Tre talloni completamente differenti, tre avampiedi toe box completamente differenti, tre fill completamente differenti. È una cosa stranissima. non so se altra sta da questo punto di vista provando diverse cose o di nuovo, se si vuole specializzare su una determinata sezione di mercato o su un determinato tipo di utente, però sì, sono tre scarpe che vanno bene per tre persone differenti. Ed è particolare qualcosa. Sti anni fa loro erano monoofferta, quindi tu prendevi un toe box patente con una bella apertura anteriore che però poteva non piacere a chi non la vestiva bene. Negli anni in base alla gamma prodotto, prodotto racing, prodotto performance, oriented, ma comunque per tutti o prodotto facile, hanno differenziato tre tipi di calzate e sai, Olympus e Outroad hanno la stessa calzata, la calzata un po' più fasciata Olympus è la calzata più comoda. In mezzo ce n'è una che chiamano calzata standard che c'è soprattutto sulle scarpe da strada ma anche in qualche modello trail e tipo le timpe le hai provate forse ai test? Le avevo provate, sì, ai test. Quella è una calzata standard per dire. È un po' nel mezzo tra le due ma tanto fa l'imbottitura all'interno, tanto fa lo strato di insomma di tensione con i materiali termoplastici che ti tiene il piede fermo, anche quello fa tantissimo nella calzata. Però ci sono dei last si chiamano industriali che sono proprio la forma della suola differente, più stretta o più larga. Per dire quel momento che avevo in rotazione diverse scarpe road to trail qualche settimana fa mi trovavo un po' spiazzato quando passavo da quella scarpa lì che riconoscevo come una vera scarpa un po' da misto tornavo ad Asics mi rendevo conto che stavo correndo esattamente con una scarpa stradale con un battistrada un po' più filante ma ho fatto delle corsi su strada solo asfalto in cui non mi sono accorto di avere una scarpa TR tra virgolette il trail. Idem con Saucony ho trovato che tutte grazie a una suola un po' più thick un po' più anche rigida pensata per il fuoristrada sono diventate più reattive tutte queste scarpe che ho provato rispetto alle controparti da strada quindi paradossalmente si offrono una scarpa sia Saucony che Asics un po' più polivalente ma allo stesso tempo devi saperci correre perché ti toglie avere quella suola lì più rigida ti toglie un po' di morbidezza in battuta però Asics veramente è stato come mettere il piede la Nimbus classica stradale la Nimbus TR è tale e quale quindi sì sicuramente fa presa su quell'utilizzatore road 100% che vuole una scarpetta un po' più grippante e non fa neanche la fatica di provare qualcosa di diverso perché prende le stesse esatta scarpa che utilizza su strada e semplicemente sa che ha un po' di tenuta in più che poi non è credo tanto differente da quello che magari alcuni atleti hanno soprattutto su gare ad esempio americane molto corribili decisamente poco tecniche e con il terreno molto duro dove semplicemente quello che si vede ai loro piedi sono degli strani prototipi che sembrano scarpe da strada ma con suola da trail e cose di questo tipo infatti forse una dei marchi che abbiamo un po' lasciato fuori ma che probabilmente ha continuato a creare o meglio ha forse creato per primo delle scarpe door to trail potrebbe essere Nike sto pensando alle Pegasus che forse sono sempre state un po' considerate in maniera sbagliata o magari io sono arrivato a capirle in maniera sbagliata credo che Pegasus sia la classica scarpa che è la trasformazione della classica Pegasus da strada in una versione in una versione trail o comunque in una versione che può andare bene su un misto con un tassello poco poco presente diciamo così forse l'ha penalizzata un po' il fatto che quando hanno proposto questa Pegasus trail che anni e anni fa era un prodotto a sé stante poi è sparito è ritornato qualche anno fa si ricorda bene Davide era andato anche a Barcellona a fare il lancio con Laney che lo presentava ecco quando Pegasus trail è rientrato in commercio con questo appeal door to trail però avevano fatto una scarpa a metà non funzionava non aveva grip non era affidabile non ha avuto fortuna tutte le recensioni che sto leggendo adesso del quarto modello in Gore-Tex però la versione Gore-Tex non la versione normale di questa Pegasus trail quindi Pegasus trail 4 versione Gore-Tex tutti affermano che è la più grande rivoluzione di grip mai vista in una scarpa Nike trail ok aspettavo di ascoltare la fine della frase perché se ti fossi fermato in una scarpa avrei staccato la registrazione penso no sono tutti contenti ed entusiasti di questo nuovo grip e tutti sperano che diventi lo standard delle scarpe da qui in avanti ma non ne sono convinti che poi abbiamo visto delle foto e somiglia veramente tanto a una suola a un light base anche come disegno sì tranne il fatto che nella parte sotto il tallone è praticamente il disegno della tassellatura è specchiato rispetto a un light base primissima versione parlo il classico la classica tassellatura lo Chevron esatto stavo dicendo a V rovesciata proprio per spiegarlo nella maniera peggiore possibile che la gente stava disegnando sul foglio a D V rovesciata cosa voleva dire hanno capito Chevrolet probabilmente la stessa gente che sta cercando anche quello sì sì è vero è vero è vero e guarda sono curioso di vedere ho avuto tutto il Black Friday tutti gli ad su internet che mi dicevano compra Pegasus 3 ho resistito tanto secondo me il modello non Gore-Tex uscirà presumo verso la primavera quindi insomma già si vedrà no no è fuori è già uscito credevo credevo avessero rilasciato solo il Gore-Tex è uscito prima ha avuto anche delle belle recensioni non l'ho messo le mani sopra però non non ha avuto lo stesso risalto la sua come con la sorella ok una più tardi parliamo di altre uscite Nike invece più interessanti sicuramente passiamo al discorso mondiali abbiamo siamo stati abbastanza nel memory lane delle le city track passiamo alle scherpe dei mondiali mondiali per noi hanno significato due cose e una di queste cose appunto è stata la la review quella che abbiamo fatto con la puntata di The Long Run uscita a inizio dicembre l'altra cosa è stata l'esaminare le foto delle persone che correvano ai mondiali così ci dividiamo esatto per dire abbiamo passato un pomeriggio credendo che la McLaughlin non vestisse delle on per poi riuscire a trovare delle foto decenti erano delle foto che in realtà non erano state prese benissimo ma si preparavano tutt'altro per poi scoprire che effettivamente erano le stesse on con cui aveva corso anche le Golden Trail Series molto differenti rispetto a quello che c'è in questo momento nei negozi è già che nominiamo on che solitamente quando parlo di scarpia da corsa non è mai nei miei pensieri no on è stata il marchio più vincente di tutti i mondiali soprattutto nella nella prova appeal dove sia maschile che femminile complice il fatto che la squadra ugandese scusatemi 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 della appeal sponsorizzata ha fatto ottime prestazioni ma anche la McLaughlin in prima posizione appeal femminile ha portato on sul podio ma poi on è tornata anche in altri in altri podi sia nell'up and down al terzo posto sempre con la McLaughlin e poi up and down secondo posto keep no gain sempre con come nella appeal insomma quindi on prepotentissima atleti forti sicuramente gli atleti giusti ma il prodotto diverso da quello che è a momenti in catalogo infatti sono tutte le scarpe suonate a podio sono grazie alle nostre fonti di road trail run che fanno dei coverage molto interessanti sulle scarpe alle gare sono tutte scarpe con un piastro in carbonio e quindi anche un'ulteriore sorpresa perché si si iniziano a vedere ma non così tanto ai piedi degli atleti e tutte scarpe che tra l'altro si sono portate a caparrate ai primi posti e ai secondi posti e ai mondiali nelle gare di appeal quindi il piastro in carbonio come il concetto che ha portato scarpe quest'anno con Kimma per essere in carbonio dedicata nello specifico al lavoro in salita per creare un gap un vantaggio in salita quindi la gara appeal è stata la prima giusto hanno aperto l'oro si 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 con la McLaughlin che ha vinto la McLaughlin che ha vinto la gara e che poi on per dire comunque ha atleti grossi nel nel suo carnet anche Tevenard stesso atleta on anche se poi nei momenti in cui è diventato atleta on praticamente lui ha smesso quasi di correre per il problema della sindrome di Lyme aveva sia Katie Scheid che Grandier che ora sono passati a TNF giusto TNF quindi sì comunque ed è sempre un pochino è sempre più presente mettiamolo così nel mercato ed è evidente la volontà comunque di sviluppare anche scarpe differenti avevano avuto hanno sempre avuto fino ad oggi un approccio un po' particolare soprattutto per quello che riguarda l'intersuola questa struttura non so nemmeno come chiamarla alveolata alveolata bucata le cloud boom che stava usando la McLaughlin sembrano effettivamente molto diverse sembra che questa struttura ci sia ancora ma non completamente sull'intersuola questo sempre guardando le foto ovviamente perché più di così non possiamo fare si sta si sta affermando come un brand da grandissima spinta innovatrice ha capito che se vuole sopravvivere deve cambiare il trend del proprio prodotto perché il prodotto fino a un paio di anni fa non soddisfava la voglia di correre di chi voleva una scarpa morbida o anche decentemente ammortizzata e invece sul lato scarpe racing loro quei materiali sono pazzeschi quei test che abbiamo fatto quest'anno con scalper io avessi potuto dare un premio scarpa rifiniture materiali scarpa da aperitivo scarpa l'avrei data a occhi chiusi perché i materiali sono di un pregio incredibile la resa in corsa no totalmente diversa però per quei due o tre modelli che ho provato io un'altra cosa non erano questi modelli qui quindi qui c'è anche sicuramente efficacia e perché no degli atleti giusti che li utilizzano non erano gli unici prototipi comunque che abbiamo che abbiamo visto ai podi perché Aleandro Garcia Carrillo terzo alla gara di Appil utilizzava le Catamount Force o Forza 1 come l'ho sentito anche nominare da alcuni atleti che sono un prototipino in corso d'opera che vedremo di più nel 2023 ma che ha dato l'uscita nel 2024 quindi una scarpa velocissima leggera per gare di salita chilometro verticale e sky race sono riuscito a prenderla in mano con un atleta di recente è una scarpa molto destrutturata con un'intersuola più gommosa di quella di Catamount classica creata con il loro DNA che è un materiale infuso nitro infusione quindi c'è il NOS dentro come il Fast & Furious però di una densità più più bassa quindi in grado di comprimersi e rilasciare più energia in ritorno molto interessante però non è la solida Catamount è proprio una versione streamline e se non sbaglio montavano un Matrix come tutto Maya quindi Matrix viene scelto ancora per le scarpe performance dopo che Kilian ancora con Salomon aveva aperto la strada e l'ha ripetuta anche con Norm stranamente nella PIL non si vede la scarpa quella che era stata che avevano messo in vendita qualche anno fa non mi ricordo quale brand la scarpa a cui mancava il tallone perché diceva quando scorri non ti serve per la PIL sarebbe perfetta sarebbe perfetta è un marchio spagnolo e non ricordo il nome grave mancanza però sì perfetta perfetta però volevo effettivamente ricordare questa cosa sempre a podio sulla PIL abbiamo visto anche le Innovate sì ai piedi di Meyerhout e le Salomon ai piedi della Motis posso dire adesso che Innovate io lo chiamo Innovotto posso provare a lanciare questo trend con un modello che ha 5 anni cioè la X-Talon 212 212 è veramente un modello che ha fatto storia ma è pensata per gare di questo tipo di solito su terreni più morbidi terza mod Matis con la classica Salomon Pulsar SG che viene apprezzata da parecchi dei loro atleti adesso per legare corte è proprio strana quella scappa ad avere ai piedi comunque sì 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 è molto anche lì non è per tutti ti richiede di correre sempre a ritmo diventa instabile molto instabile invece up and down andiamo in ordine di distanza non proprio in ordine di dell'ordine delle gare up and down ha riservato un sacco di sorprese perché 100% quindi 6 persone a podio tra maschile e femminile 100% scarpe racing con piaste in carbonio tutte la cosa interessantissima è che 3 persone le prime 2 donne e il terzo uomo utilizzavano scarpe da strada con la con piaste in carbonio ma scarpe stradali forse l'unica che non si può proprio chiamare piaste in carbonio è quella della prima donna la zoom streak 6 di di Nike perché è una piastra infusa si dice non è una piastra intesa è un vero plate in carbonio ma comunque aveva dentro una piastrina che lavora pensata per le gare su strada è la scarpa con cui Kip Koji aveva ripreso il record della maratona diversi anni fa prima dell'arrivo delle scarpe con piastra di nuova generazione e lei l'ha usata per una gara con della discesa io non so ancora come abbia fatto è una scarpa da pista quella lì è una scarpa incredibile e invece poi ben due runner uno del secondo classificato femminile secondo classificato femminile Uganda e il terzo classificato Timothy Toritic che non ricordo la nazionalità onestamente entrambi avevano la Vaporfly la prima modello che è la scarpa da maratona più famosa che c'è adesso in commercio e invece le due scarpe rimanenti di questi sei erano on tanto quanto nella gara appeal quindi 100% scarpe ultraleggere racing e con piastra la classica secondo me è dimostrazione del fatto che se sai correre puoi correre anche con due foglie legate ai piedi e va bene lo stesso e in discesa che poi credo che il terreno non fosse nemmeno ideale da quel punto di vista credo ci fosse fango e cose così però e lo short trail finalmente c'è un po' di varietà tra cui le nostre amate merrell un giorno parleremo di quelle merrell un giorno però non è ancora il momento c'è stato un test quindi possiamo parlarne esatto più avanti e salomon pulsar e scarpa kima quindi ai piedi dell'Emilia Bragenfalt e mentre dal lato maschile abbiamo un hunger mode con il pulsar sg tanto quanto la mode matis francesco pupi con le nike zegama scelta interessante perché mi sarei aspettato l'utilizzo della nuova ultrafly che pupi ha già tra le mani che è una scarpa un po' più tecnologica un po' più avanzata e invece ha utilizzato una scarpa più strutturata ecco la zegama è una scarpa più strutturata questo mi fa pensare che magari il terreno non era così facile come sembrava ma era un terreno un po' più ostico e invece il terzo uomo Albon Jonathan Albon con un modello che ormai non si può più definire prototipo perché è stato ufficializzato a The Running Event che è The North Face Summit Sky che è una scarpa velocissima da gara con plate in carbonio e una nuova concezione di scarpa ormai poi la vediamo quando parliamo di Running Event l'avevamo vista anche a UTMB proprio quello che volevo chiederti se erano le stesse si si utilizzata da lui e anche dalla Kathleen Herbin che ci ha fatto UTMB quindi una scarpa leggera per competizioni veloci lei l'ha scelta per UTMB ma la Herbin è sempre stata un atleta che usava scarpe basse tutto sommato tra virgolette minima per fare gare lunghe e quindi si non mi stupisce e Albon appunto si l'ha utilizzata per aver fatto il terzo posto mentre Long Trail abbiamo un po' di varietà beh innanzitutto Blandini Rondel con le scarpe della Decathlon cheat ma lei è sempre stata io la ricordavo in Occa lei è stata in Occa ok quindi è da quest'anno è con è con Decathlon mi pare che l'anno scorso ha fatto quel piazzamento a OCC l'anno scorso lei e ha vinto OCC ed era ancora a Occa mi pare infatti io ricordavo quello quest'anno invece ha firmato con Eva Dict che è il marchio brand interno del gruppo Decathlon dedicato al trail running specifico secondo Aida Nilsson uscita dal nulla ben tornata con delle craft che all'inizio avevo identificato come prototipo ma poi grazie a The Running Event le ho identificate e si chiamano Pure Trail ed è una scarpa con plate in carbonio e suola Vibra Mega Grip quindi un suolone tra l'altro quindi una scarpa bella importante terza la Gemma Arenas che è sponsorizzata Geoma ma utilizzava delle Asics Fuji Light che è un modello leggero di Asics per competizione su breve distanza lei non lo sai l'ha usata sulle lunghe distanze e ha fatto bene può essere il podio più strano di scarpe che ti sia mai cercato di vedere da un certo punto di vista Eva Dict la Race Light si chiama il modello di Decathlon ed è una scarpa più bassa della Pulsar di Salomon cioè è una scarpa totalmente old school vecchia bassa ricorda le vecchie Joves di Oka che era una scarpa per cross count legale in salita però Vandini di Rondella l'ha utilizzata CCC l'ha utilizzata qui è incredibile che roba passare da struttura di Oka a una cosa così incredibile minimale secondo me dentro ha delle solette in in Noene di alte 5 cm per avortizzare tutto però buon per lei e invece l'atto maschile oh finalmente una Oka attenzione poi parliamo anche di sta cosa qui però Peterman a punto Oka Speedgoat 5 anche qua non il prodotto top ho scelto un prodotto di media gamma noi non ho usato le Tecton con piastra ho scelto un prodotto più affidabile più versatile Nicola Marten con le Catamount 2 che sono in uscita nei prossimi mesi e Reiter con una scarpa invece diciamo la Trabuco 10 di Asics è una scarpa non molto tecnologica però fa il suo lavoro è molto ha un ottimo grip ai testi scalper ha sollevato il consenso di tutti sull'atto grip quella scarpa lì se non ricordo male Peterman aveva corso Western States con le Speedgoat 4 addirittura perché lui diceva che si trovava bene con quelle scarpe sia quello o forse addirittura era 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 quello con le Speedgoat 4 a Western era Scott 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 hai ragione hai ragione sì siamo proprio delle brutte persone camicia e Speedgoat 4 camicia e naked e zainetto naked con il ghiaccio esatto e no dicevo finalmente una oca perché ho notato questo i brand cioè le grandi ci sono stati dei grandi assenti a questi mondiali secondo me che non rispecchiano in realtà il lato marketing che succede che che lavora dietro con la vendita a scarpe cioè i grandi assenti e i podi sono stati secondo me Adidas e oca cioè per il quantitativo di atleti che hanno e Terex ha una squadra della madonna complice il fatto che Thomas Evans non è mai partito non ha fatto non è proprio partito le competizioni quindi non l'abbiamo visto ma anche Saucony mancava mancava sui podi ecco non ha messo nessuno neanche vicino visto che non c'erano atletoni e in relazione alle vendite al pubblico ci sono stati dei brand che non sono proprio stati rappresentati dagli atleti cioè il rapporto tra quanto vendo e quanto sono visto in un evento come i mondiali zero questi sono oca brooks e la sportiva brooks due scarpe su 18 persone la sportiva zero oca uno quindi si fa un po' pensare che c'è altro che emerge sicuramente su quando si parla di competizione che poi è strano anche andando a prendere due grossi eventi al mondo trail vedi western vedi UTMB e sorelle in realtà il panorama è completamente differente mi chiedo quanto effettivamente la voglia degli atleti di andare a fare il mondiale a fine anno in Thailandia abbia poi effettivamente pesato sulla cosa mi chiedo quanto due distanze a cui non siamo abituati nel senso non siamo abituati a seguire come up hill e up and down hill abbiano pesato sulle percentuali di presenza dei marchi però sì sono assenze che si fanno notare mettiamolo così è strano che i risultati siano praticamente invertiti rispetto a quello che abbiamo visto pochi mesi fa UTMB quindi dovevamo visto ovviamente North Face avevamo visto Adidas avevamo visto ovviamente Oca insomma i modelli presenti erano quelli Scarpa avevamo visto soprattutto sul corte su ACC sì e lì veramente ci sono un po' rimasto poi ok erano presenti qui atletiche tipo tutta la squadra lo squadrone degli atleti della PIL che non trova magari spazio alle gare di UTMB quindi li vediamo meno più l'ambiente della corsa in montagna in cui magari vazzichiamo meno anche noi come interessi ci può stare però invece il mondo ultra e short trail non è stato rispecchiato da come come si muove il mercato quello sì passiamo sì passiamo passiamo diciamo passiamo all'unica forse nuova uscita di questo bimestre trimestre che andiamo a coprire o magari non nuova uscita in realtà è uscito alla qualunque però la cosa più particolare sì penso che la più particolare sia la nuova Speedland GS Tham come adesso proverò a pronunciarlo ma non ci riesco mai perché io l'ho sempre pronunciato Tham Palace in realtà è Tham Al Pace penso il nome di questa montagna non lo so però hanno scelto un nome insensato sembra il nome della figlia di Elon Musk sì con dei caratteri a caso non aiutano diciamolo chiamiamola così la nuova Speedland brandizzata free trail ovviamente perché Bowman è all in con questa cosa è una scarpa molto diversa da quella che avevamo visto qualche mese fa sì e hanno snaturato molto in fretta l'idea di scarpa che avevano non nel contenuto in sé nel fatto di essere una scarpa come dicono loro performance oriented pensata per massima resa dal prodotto e i materiali ricercati non hanno snaturato quello hanno snaturato l'idea dietro perché loro erano partiti con una scarpa che sembrava richiamare l'idea di performance uguale faccio un passo indietro e torno alla scarpa un po' più minimal e invece si sono presentati adesso con GS TAM che è una scarpa che fa 37 mm del tallone 30 all'avampiede quindi uno stack massimalista con un drop di 7 mm che non si è mai sentito se non qualche rara scarpa in la sportiva in Adidas però diciamo interessantissimo l'aspetto di voler e di essere secondo me disposti a mostrare che loro non vogliono fare scarpe per forza sulla loro filosofia ci tengono a rispondere al bisogno del mercato che in questo momento chiama suola morbidezza non hanno snaturato l'idea di riciclare i componenti una volta che la scarpa va in esaurimento peccato che bisognerebbe rimandarli in America a Speedland e loro si occupano però diciamo che è una scarpa nata con l'ultra in mente per loro l'altra scarpa era un po' meno pensata per le ultra dipendeva dove la portavi e invece questa qui nasce per portare chiunque a fare un ultra trail una gara un ultra maratona mantiene il boa mantiene il knit in da inima che è questo materiale patented che stanno utilizzando solo loro al 100% perché poi ci sono altri tipi di da inima che vanno anche in nord come brand ed è una scarpa che mantiene anche quel concetto della soletta estraibile con piastra quindi ho visto lo spaccato tagliato alla macchina e c'è all'interno dopo la tomaia c'è questa soletta interna con piastra amovibile e poi sotto il resto del cuscinetto quindi è un dovrebbe esserci un termine è un cuscinetto in floating si dice quindi può essere appoggiato all'interno della scarpa ma anche estratto e ti consente di utilizzarla in due maniere diverse feeling più natural o feeling più ammortizzato con piastra tra l'altro a me sono rimaste in mente solo due cose di questo nuovo prodotto sì esatto io davvero io vorrei parlare con chi sceglie i colori delle scarpe perché anche questo nuovo modello secondo me è terribile inoltre questo modello è anche brandizzato frittere il come dicevamo c'è il logo dietro secondo me è veramente è veramente brutto le prime erano straordinariamente brutte per quanto mi riguarda sembravano le ciabatte degli infermieri e non ho niente contro le ciabatte degli infermieri semplicemente sono ciabatte da infermiere e e questi secondo me hanno veramente dei colori tremendi lui ci ha vinto miwok e con record se ricordo bene quindi il claim è che è una scarpa da 100 miglia adesso ma non è andato benissimo a ultra perineo ma non è andato benissimo a ultra perineo mi pare no nono o settimo nono vado vado a memoria la mia memoria fa schifo ma questa la gente che ascolta il podcast già lo sa comunque ecco è la grande uscita un po' è quella lì nel senso che il resto sono tutte uscite novità che arriveranno in primavera estate ma questa l'hanno presentata un po' a sorpresa quando avevano raccolto una serie di successi dai tester e insieme a questa stanno testando anche un prodotto che è la fotocopia identica della scarpa ma con suola da strada con cui hanno battuto un record su treadmill di 24 ore treadmill non quello elettrico ma quello a spinta si dice quindi ecco quindi è passato in sordina perché probabilmente a nessuno interessa sentire della differenza tra treadmill e spinta e treadmill la trazione scusate e treadmill elettrico motore però esiste questa differenza è giusto che poi comunque questa scarpa nuova di Speedland l'avevamo già ad occhiata ai piedi di Bowman già in diverse sue uscite credo forse addirittura da pochi mesi dopo il suo annuncio della partnership con con Speedland anche lui probabilmente gli ha detto guardate che ho una certa età non posso correre con delle eh sì con delle five fingers con con una toe box unica insomma cioè anche io recentemente ho usato qualche scarpa di concetto un po' più minimalista le stesse MR che nominavamo prima e comunque le ho sentite più ammortizzate e più comode delle cioè no non più comode scusate in senso lato però più comode in corsa delle Speedland poi se penso a una scarpa che come vestibilità è perfetta ed è veramente comodissima a tenersi in giornata le Speedland è la prima scarpa che mi viene in mente sono veramente stra comode però in corsa non ti regalano niente l'outro di cui parlavamo prima la sceglierei tutto tutto il tempo piuttosto di Speedland domanda perché non ricordo Speedland ha il doppio boa il boa funziona anche in apertura si si chiama LA2 è il modello particolare che non è quello che viene usato da Montblanc dove per allargare devi sganciare completamente che è quello classico mettiamola così il reverse che credo tra l'altro sia una cosa che viene usata forse solo da loro da scarpa nella giacca no non la giacca scusami la ribelle la ribelle da montagna quella lo stivaletto e forse da una la sportiva no non mi ricordo anche quella la versione la cyclone la versione normale del boa è un sistema che arriva tanto dal ciclismo perché chiaramente stai pedalando sei a 50 all'ora vuoi regolare non puoi metterti a sganciare attaccare sulle scarpe di alta gamma da ciclismo su strada le trovi trovi quel genere di boa lì e poi lo sciapinismo anche lì lo trovi spesso perché è molto facile utilizzare anche quei guanti quindi è accessibilissimo sì sì ma infatti a proposito di questo usando le Montblanc boa una delle cose che avevo pensato io non avevo mai usato scarpe col boa e una delle cose su cui ragionavo è l'accessibilità di questo tipo di allacciatura è una di quelle cose che viene che aiuta anche persone che hanno problemi magari con allacciature classiche cose di questo tipo quindi secondo me è un tipo di innovazione che fa solo bene fa solo bene al mercato qualche anno fa era ancora diciamo in sviluppo da quello che ricordo e che mi dicevano le persone che lo provavano erano scarpe molto comode molto precise come tipo di allacciatura ovviamente perché boat lo montavano abbastanza su qualsiasi tipo di scarpe una volta però mollava un pochettino correndoci sopra quindi si allargava leggermente cosa che adesso non succede più se ricordo bene per la TAM per chiudere sono andati in preorder e adesso invece esce di serie dall'anno prossimo mi pare da gennaio se non mi sono perso già la prima uscita diciamo ma non le ho ancora viste i piedi in massa per cui sono partiti di quei preordini e arrivano poi sull'anno nuovo immagino classica cosa chi è dentro a free trail avrà lo sconto del x per cento 15 per cento quello che è anche Nike è una cosa del genere vero? ha un sistema di partnership penso che vedi prima le notifiche delle scarpe a magazzino poi acquistarle per un po' non lo sapevo credovo lo facesse solo per quelli della setta segreta di free trail io direi passiamo agli eventi che ci sono stati in questo in questo periodo alla fine andremo abbastanza veloce perché ci sono un po' di novità di cose di cose che sono uscite e poi direi che abbiamo ammorbato abbastanza le persone con le nostre chiacchiere sulle sulle scarpe sì in realtà come dicevamo prima l'idea era che bello c'è Ispo Ispo è sempre una figata ci porteremo chissà cosa svederanno a Ispo e invece l'altro scarpe è da corsa l'unica scarpa che si è fatta cioè ci sono state un paio di modelli che si sono fatti notare ok e due sono di Merrell quindi non è assolutamente scontato e hanno vinto un premio per this shoe this running shoe is on fire ok secondo me è un premio bellissimo ok no è un award per la per la scarpa da trail ultra ok si chiama skyfire 2 e è una scarpa nuovissima pensata come performance ed è la versione più alta della sky 2 che sto provando però con un plate in carbonio che è veramente dedicato al trail running è un plate un po' diverso dai soliti perché non lavora solamente sull'avampiede con una piastra unica si divide in tante piccole piastre sotto i metatarsi quindi garantisce un lavoro molto personalizzato di tutte le teste metatarsali quindi una rullata che rispetta la fisionomia del piede prosegue sul retro e si adagia sul tallone garantendo anche stabilità quindi una piastra della doppia funzione propulsiva in una certa maniera e stabilizzante sul retro quindi sicuramente premio innovazione è una versione avanzata è una domanda che mi sa che ti avevo già fatto e forse mi avevi già detto no è una versione avanzata della struttura della piastra di Tectonics che non ha la classica forma ma ha una forma che si divide no è una cosa ancora diversa perché Tectonics inserisce proprio due piastre diverse che non sono collegate all'interno con il simbolo dei pesci ah ok quella roba continuo a pensare nella mia testa come un'unica piastra ma in realtà sono due elementi che vanno ok no questa si ispira invece o meglio l'unico non è che si ispira scusate l'unica cosa che riconosco io come ispirazione è un concetto che Adidas si utilizza già da 2-3 anni nelle scarpe da strada e loro richiamano carbon infused rods e quindi sono proprio delle piacche placche tubolari che dal mesopiede entrano sotto le dita e ti permettono un lavoro con tutta la spinta del piede in digiflessione non solo a piastra piena ecco questa è l'unica cosa simile che ci ho visto quindi l'innovazione sul trail running Mare porta a casa questa quindi con il modello Skyfire 2 che escirà l'anno prossimo e poi c'è l'agility peak che è una scarpa che vince il premio per l'innovazione di scarpa trail Gore-Tex ed è il loro modello un po' più carrozzato è la loro golden gate la loro scarpa un po' più strutturata con suere in Vibram che vince il premio per stile e per materiali ricercati e per la trazione perché comunque ha un bel Vibram sotto e montato con Gore-Tex quindi è una scarpa invernale quindi è piaciuta per è annunciata per la seconda metà del 2023 è una scarpa che comunque non so che pubblico avrà insomma auguro tutto il bene nel mondo a Meryl perché l'ho rivalutato tantissimo adesso che sto provando questo modello la Long Sky 2 però è ancora un marchio che vedo tanto di nicchia ecco quindi vedere due modelli premiati a Ispo mi fa pensare che forse a Ispo non c'era così tanto non lo so non lo so però negli ultimi mesi abbiamo notato che effettivamente stanno spingendo tanto in tante direzioni differenti stanno sponsorizzando tanto le scarpe online avevano un'ottima presenza a UTMB all'interno dell'Expo dove presentavano i modelli nuovi Brian era contentissimo Brian di Iron Fire era contentissimo del nuovo modello di scarpe quindi insomma magari anche loro stanno un po' provando a a vivere una una nuova vita nel mondo del trailer e farsi un pochettino più presenti in questo mondo la terza scarpa è una ON quindi torniamo all'innovazione di ON non è una scarpa da trail è una scarpa da strada massimalista si chiama Cloud Monster e vince il premio scarpa road oriented per l'innovazione anche è proprio la cartina attorno al sole di cosa sta facendo ON in questo periodo cioè è passata da scarpe molto basse minimal veramente natural feeling col terreno a stacchi più alti di 40 mm che tra l'altro ascoltando i recensori è una scarpa che è anche piaciuta non è una scarpa per tutti perché mai Oca è un po' più facile però è una scarpa che sta piacendo veramente parecchio Chioso il discorso Ispo visto che poi di scarpe non c'è più da parlare dicendo che Merle si porta a casa due premi sul trail e altri due premi anche sul liking quindi torno a dire che c'è un gomblotto che c'era solo Merle probabilmente ecco dai fortunatamente per noi c'era un grosso running event dedicato alla corsa quindi il mio feed di Youtube è totalmente esploso perché tutti i canali che seguo di recensori erano lì facciamo una carrellata di cose belle anche per far capire cosa si vedrà nei prossimi mesi così se la gente aspetta il modello nuovo della propria scarpa sa che sta arrivando posso aprire in maniera tossica? vai apri in maniera tossica grazie Oca che ha capito che il Jacquard fa schifo e quindi le prossime Tectonics Tectonics 2 che escono già in primavera hanno già cambiato la Tomaya e utilizzano un Matrix con elastomeri più ampi e quindi il Jacquard non ha che sembrava il grande hype di quest'anno non ha avuto il successo sperato in quanto a Tomaya io sono d'accordo troppo morbido assolutamente troppo morbido o troppo morbido o troppo difficile da controllare in fase di produzione perché non ricordo se è un discorso che abbiamo fatto in registrazione l'abbiamo fatto sicuramente dal vivo ho due paia di Speedcott 5 e c'è un'enorme differenza tra il modello blu e il modello rosso il modello blu stesso numero prese a distanza di due mesi tre mesi l'una dall'altra quindi bene o male appunto stesso anno di produzione il Jacquard del modello blu cede completamente e il mio piede si muove tantissimo all'interno della scarpa il modello rosso è molto più rigido quindi non so se effettivamente è un problema di produzione se è un problema del Jacquard se non lo so però sono contento che passino ad altro hanno fatto il loro esperimento ha quasi funzionato ok l'investimento è stato tanto su Speedcott 5 infatti non cambia quella rimane così purtroppo ci atterremo penso in altri due anni un anno sicuro Tectonics probabilmente era già un investimento importante perché c'è una piastra nuova però una scarpa un po' di nicchia con una produzione più limitata secondo me sono riusciti a fare questo switch in produzione in maniera più facile non hanno cambiato nient'altro la piastra rimane quella l'intersuola rimane quella la suola in Vibram Mega Grid Plate Base rimane quella però per cambiare tutta la tua maia è un segnale che hai capito che c'è che qualcosa è sbagliato parlando di Door to Trail cambia anche la Challenger che è sempre stata per eccellenza la scarpa da misto sono cambiamenti minori però diventa un po' più road oriented quindi un po' più pensata per la strada come il discorso che facevano prima di ASICS per esempio o di Saucony interessanti rappresentazioni di scarpa arriverà a breve la Spin Planet che è una nuova in aggiunta una scarpa un po' più se mi sente il nostro ingegnere è un caro amico di scarpa mi ammazza però è un po' più alta un po' più oca come impostazione aspettati la telefonata a breve arriva subito però veramente tu hai provato le Spin Infinity è più alta un po' più morbida più corribile perché è più rotonda sui piedi senza però avere quei suoloni a stacco alto io ho esagerato un 28 mm che non è di oltre 30 mm di una oca però diciamo hai pensato già per offrire un'alternativa corribile da lunga distanza che non passi necessariamente per una scarpa tipo Infinity che è molto rigida posso farti una domanda tanto già ormai ci stiamo facendo odiare ci siamo bruciati anche spero che nel caso abbia già fermato di ascoltare abbia già fermato la riproduzione ho amato Spin Infinity e questo comunque così è contento no in realtà mi è piaciuta veramente come scarpa ma mi è piaciuta perché ci riconosco un feel che avevo con le scarpe con un determinato tipo di scarpe qualche anno fa è una scarpa che per quanto mi riguarda ha una concezione un po' un po' vecchia un po' passata non che sia una cosa sbagliata o che non funziona ripeto è una scarpa che mi è piaciuta però queste Spin Planet fanno quel passettino in più provano a buttarsi verso qualcosa di più moderno qualcosa di più in linea con quello che c'è fuori dal punto di vista secondo me di look perché anche quello il design è molto cattivante è tutta un'altra scarpa ma reattività al piede è molto più piacevole molto più corribile è una scarpa che però non ti promette di andare negli stessi posti in cui porteresti gli infiniti cioè io porterei gli infiniti tutti i giorni in montagna a fare crode a fare tecnico a fare quella Spin Planet non ci andrei perché da come l'ho sentita al piede da come ci corri ti trasmette l'idea di portami a fare anche un ultra corribile su terreni facili tienimi sulla mezza montagna magari non portarmi a fare cose complesse non monta Vibram monta Presa come Outsole e quindi è una sì in realtà non sto svendendo Presa perché è un'ottima suola però non è rigida come Vibram e magari potrebbe mangiarsi un po' più in fretta se portata su terreni più complessi più tecnici scusate e poi uno dei pochi atleti a running event che presentava i prodotti era Lenei che probabilmente gli hanno detto se vuoi rimanere a bordo devi almeno presentarci a parte del contratto e ha presentato due scarpe la Nord Light Ultra e la Pure 3 che abbiamo citato prima con Ida Nisson e a me non piace tanto craft non mi provate non mi hanno ispirato vedendo le scarpe con cui lui ha corso TNB lo chiamo Miracolato perché ha corso fondamentalmente con delle scarpe Road to Trail il modello Nord Light Ultra è una Road to Trail come Pablo Villa che finisce TDS in Pegasus in Pegasus con uno stack un po' più alto nel caso di David ma sì sì ha corso con una specie di Oca però è proprio per terreni semplici semplici Fire Roads lui diceva e Sentieroni una scarpa molto americana e hanno mostrato la nuova Cascadia 17 che è in uscita a luglio dell'anno prossimo rivista completamente è una scarpa che ha stravolto di nuovo il concetto di Cascadia interessante monta come la Merle una piastra segmentata sotto le dita in tre sezioni quindi consente un po' più di propulsione in salita ma anche più controllo sul terreno non è una piastra in carbonio è una piastra in materiale plastico è una piastra in materiale plastico sì è una un po' una novità per Cascadia c'è un po' più di innovazione a me è piaciuta ma l'ho percepita come una scarpa che diventerà un po' meno per tutti cosa che invece Cascadia è sempre stata da una vita la scarpa con cui uno inizia a correre sul sentiero e diventerà più versatile però allo stesso tempo magari non sarà quella scarpa affidabile che consiglia a chi compra la prima scarpa per andare a fare una gara in montagna no gli consigliamo la Spin Infinity probabilmente posso dire che per fare un parallelismo che Brooks negli ultimi anni a volte mi dà l'impressione di non sapere cosa stia veramente facendo nel senso fanno uscire la caldera ma poi la stravolgono perché magari avevano già in mente qualcosa di differente e hanno avuto bisogno di transizionarla Cascadia è credo sia la terza volta in sei anni che sento la parola del rivista completamente rivista completamente sì sì cioè è come se allora o non sanno in che direzione portare Cascadia o se hanno o magari hanno deciso che Cascadia è il loro modello da test nel senso testiamo una nuova tecnologia proviamo a portarlo verso un segmento differente e rispetto a quello che giustamente dicevi tu prima che era la loro scarpa era la scarpa Cascadia cioè la scarpa che la gente sceglieva di Brooks lo è stata fino credo alla undicesi a dodicesi o poi l'hanno stravolta poi hanno avuto problemi anche di suole ti ricordi c'erano anni ogni due anni io mi ricordo ne ho avute un paio di 14 15 sì sì 2019 mezzo l'hanno cambiata ancora l'anno scorso l'avevano cambiata quest'anno lo stravolgono non lo so magari stanno appunto testando per vedere dove può andare a finire questa cosa spero che non faccia la stessa cosa su Catamount perché è una scarpa Catamount cambia arriva arriva a febbraio arriva a febbraio ed è completamente un'altra scarpa hanno mantenuto solo la finalità della scarpa quindi una scarpa lunga distanza un po' più dinamica però è diventata ha guadagnato una piastra in plastica come la nuova cascadia di luglio l'hanno inserita sotto le dita per dare più propulsione in salita questo renderà la scarpa un po' più secca inevitabilmente perché è pensata per essere così per darti più slancio e la suola avvolge un po' di più il tallone dietro cioè sale l'intersuola e crea un effetto di contenimento un po' quindi dovrebbe essere anche un po' più stabile la suola sotto mi è piaciuta molto la suola nuova ma non è più la suola da strada è tappata di più e renderà meglio su sentiero quello sì e la cosa interessante che vedo sempre di Brooks è tanto stanno innovando in fretta il trail e hanno una slancio che ogni anno ti mostra una cosa diversa un aggiornamento importante tanto quanto su strada invece sono imitativi al 100% sui loro stessi modelli cioè continuano le stesse linee creano una convergenza di modelli in un unico modello magari così snelliscono un po' la gamma però è sempre la stessa minestra invece sul trail come dici tu Cascadia dal 2019 al 2023 è cambiata tre volte in maniera radicale la 14 era una cosa la 16 è tutto un altro prodotto ma proprio una cosa che non assomiglia né a quella di prima né a quella che viene tra poco proprio un altro concetto però ti dico da utente da utente base questa cosa per me è un problema nel senso se trovo una scarpa con cui mi trovo bene io non dico che ovviamente per cinque anni mi devi rifare la stessa scarpa e semplicemente gli cambi di numero ma non può essere uno stravolgimento costante nel senso anche vedi come dicevi adesso di Catamount una scarpa che avrei comprato a occhi chiusi adesso magari ci penso due volte perché se mi sono trovato tanto bene con Catamount e me l'hanno stravolta cosa succede? Sì e poi togli un riferimento chiaramente la caldera stessa cambierà nel 2024 uscirà insieme come modello massimo ammortizzamento insieme alla Catamount Forza 1 che ti dicevo prima che diventa invece la scarpa velocissima in mezzo Catamount resterà Catamount immagino Cascadia spero che nel 2024 con un anno di vita ci sarà uno stravolgimento radicale e vedremo vedremo la cosa che mi piace di Brooks è che però sul trail ha capito forse è arrivata tardi a capire l'investimento che aveva senso fare però loro vanno all in sono all in su qualsiasi cosa come approccio è interessantissimo assolutamente io parlo da utenza finale nel senso il vedersi cambiare ogni anno la scarpa ti lascia un po' bloccato mettiamola così ecco quindi li vedremo appunto ricordo Catamount 2 è uscita già a febbraio e invece Cascade 17 è uscita a luglio Sao quindi ha presentato il modello performance con cui si è fatta conoscere quest'anno non ha riscosso grande successo però lo si vede un po' in giro l'ha ripresentato per l'anno prossimo senza piastra quindi esisterà il prodotto con piastra e il prodotto senza per offrire due esperienze di corso un po' diverse quindi Endorphin Edge con la piastra Endorphin Rift senza New Balance porta il modello che chiama Super Comp Super Competition da strada e lo porta sul trail quindi si chiamerà Super Competition Trail grande fantasia interessante perché ha un asse intagliato sul retro del tallone che garantisce una certa stabilità una certa indipendenza della suola interna del tallone della suola esterna come dei pod che lavorano in maniera indipendente quindi garantiscono una certa stabilità pur avendo dentro una piastra che quindi renderà l'esperienza di corso un po' diversa e Vibram Light Base per piacere grazie e arriviamo a Salomon ti dico solo che in un'intervista il designer prodotto di Salomon ha detto volevamo nella collezione dell'anno prossimo creare delle scarpe che quando un cliente entra in negozio vede immediatamente in parete e quindi le hanno colorate di tutti i colori se tu vuoi vederti le collezioni dell'anno prossimo di Salomon sono incredibili le noti subito volevano poi l'approccio Nike però Nike hanno dietro dei designer pazzeschi dal punto di vista di scelta di colori e di forme Salomon hanno con Siele avevano fatto secondo me un lavoro bellissimo ma di nuovo erano i designer di Siele non erano quei di Salomon guarda io mi sono segnato colori cannonata perché ho visto le scarpe che oggi ho detto mi piacciono un sacco le comprerei per andarci in giro sono sempre stati un po' noiosi loro molto ripetitivi e molto noiosi sempre quindi bene così comunque hanno cambiato quattro modelli Thunder Cross Sense Ride 5 Pulse al Trail Pro 2 Ultra Glide 2 tutto il comparto Trail soprattutto quello per terreni facili dell'anno prossimo è stato rivisto con modello da media distanza che è la Sense Ride e modello da lunga distanza che è la Ultra Glide che già quest'anno è andata molto bene quindi ritorna la scarpa della della Courtenay da Walter per impenderci Adidas i più fighi di tutti perché hanno presentato una scarpa dicendo non vi possiamo dire come si chiama questa scarpa ma sappiate che è un prototipo che abbiamo in canna da due anni e ancora non è finito e intanto però l'hanno messo lì in vetrina e l'hanno chiamato prodotto Race Interrex della loro linea da Trail è la scarpa che Ruth Croft ha usato a Western e Peter Endal Peter Endal a CC quindi la scarpa delle scavigliate di Endal fantastico scavigliate e recupero da quello che sappiamo Owens c'era anche Owens mi sono preso dei take che hanno lasciato quindi combinare insieme una schiuma reattivissima che potesse fare da energy saving per i muscoli quindi che togliesse fatica muscolare soprattutto in discesa e allo stesso tempo una piastra che non è una piastra torna a quel concetto dei rods di cui parlavamo prima quindi questi inserti a ventaglio che si aprono sotto le dita non un singolo piastrone che toglie sensibilità il concetto secondo me bellissimo secondo loro è la loro most efficient shoe che hanno mai fatto e loro hanno creato dei prodotti da strada veramente incredibili che stanno andando benissimo e l'aspetto fondamentale su cui hanno marciato è il fatto che fosse una scarpa con dei materiali di Tomaya lockdown for downhill ma lì chiederai a Peter e in quel modo ne pensa anche al suo fisioterapista visto che ci ha lasciato giù le capiglie però veramente prodotto stra interessante per me è stato il più interessante di tutto era la linea è stato vedere quella lì l'altro prodotto veramente interessante è stata la nuova linea Summit di North Face che fino a UTMB chiamavamo i prototipi di North Face che abbiamo visto a tutti i loro atletoni UTMB che quest'anno si facevano notare vedi Katy Scheid vedi Albon vedi la Gerbing hanno praticamente creato una nuova linea Summit Sirius che è sempre stato il loro prodotto l'Slab il loro prodotto Pinnacle con due prodotti Summit Pro e Summit Sky Summit Pro prodotto a lunga distanza un po' più oversize con materiali più durevoli anche più robusti un po' più pesante chiaramente con stacco 32 mm dietro 26 mm davanti e Summit Sky che invece è 23 mm dietro 19 mm davanti prodotto leggero reattivo per gare corte che però per le caratteristiche che ha di materiali gli aziende riescono a utilizzare anche su gare lunghe come un po' Kili anche la sua Pulsar si la portava anche per i 100 km dipende molto dall'atleta chiaramente però questi due nuovi modelli appunto Summit Pro e Summit Sky hanno in comune il fatto che c'è una piastra che lavora all'interno una piastra molto più stabile rispetto a quelle di altri marchi e hanno raggiunto questa stabilità allargando la base quindi è più aperta verso l'esterno e hanno creato all'interno della schiuma uno chassé di stabilità anche in prossimità del tallone quindi piedi si siede come le oca all'interno della scarpa e non sopra la scarpa e sei un po' sostenuto ai lati interessante molto molto interessante hanno parlato di un'allacciatura tra l'altro ispirata alle scarpe stradali di Nike hanno proprio nominato Nike Alpha Fly con una struttura dell'allacciatura un po' più pensata in maniera adattiva ecco molto interessante molto elasticizzata quindi anche lì la seconda il secondo miglior marchio che si è fatto vedere a livello T3 chiaramente parlo è stata North Face secondo me con una presentazione nuova di due scarpe che escono l'anno prossimo quindi stupendo a questo punto di vista direi che chiudiamo invece con Nike visto che hanno presentato ufficialmente Ultra Fly che è la scarpa che sia Francesco Puppi ci ha abituato a vedere in Italia che Maestri ci ha vinto gli europei di corse in montagna El Paso Canarie quest'estate e l'abbiamo vista ai piedi di Tyler Green cioè Tyler Green e un altro paio di atleti Nike interessantissima suola quella che dicevamo prima non ispiratissima forse però piastra in carbonio pensata per il trail fatta da chi si è inventata la scarpa che funziona veramente con la piastra in carbonio della strada quindi grandissime aspettative non ne sappiamo tanto ancora non vedo l'ora di metterci le mani sopra anche quella di una scarpa attesa ma poi ci hanno stupito con la presentazione di Wild Horse 8 e Terra Kiger 9 bellissime le foto le abbiamo viste insieme sono ritornate un po' non ti hai ricordata quella vecchia come concept assolutamente sì 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 si erano secondo me un po' persi negli ultimi anni ma sono veramente curioso di queste poi ovvio il discorso della della suola per me è la chiave del è la chiave del discorso spero che effettivamente siano riusciti a metterci mano da quel punto di vista spero che l'eredità delle Pegasus Gore-Tex arrivi lì perché è quello che manca solo a quegli scarpe lì per funzionare non serve altro erano già scarpe buone prima mancava solo il fattore di tenuta o come dico sempre pagare due soldi a Vibram è a posto sì però la cosa interessante è che in controtendenza tutte le altre scarpe che hanno nella loro linea da trail siamo tornati a dei livelli di altezza da terra di qualche anno fa non hanno puntato sul fare altre due scarpe oversize siamo tornati a delle scarpe normali da trail quindi approvate e vediamo sono curioso anche lì altro non è emerso è stata una bella carrellata c'è di tutto di più c'è un sacco di video online tutta cosa che si possono vedere dai vari influencer e recensori vediamo cosa ci riserva l'anno prossimo io direi che siamo arrivati alla fine della puntata di questa prima puntata vera di B-Side vi abbiamo stremato abbastanza con tutti i materiali e prodotti usciti che usciranno nei prossimi mesi adesso Tommaso ci impiegherà mesi per riprendersi io ho creato moltissime aspettative per le prossime puntate esatto se qualcuna domanda ce le faccia che sia sui social o via mail va bene lo stesso se volete renderci veramente contenti riempiteci di soldi così possiamo comprare una sega per tagliare in due le scarpe piastra di carbonio e anche le scarpe da tagliare esatto scarpe e la sega e direi che ci aggiorniamo alla prossima puntata di B-Side grazie Tommaso grazie a te ciao Ale ciao ciao